Leonardo Silva Revisore Io quando ero bambino non avevo la più pallida idea che nella mia vita avrei fatto le scalate. Ma quando ho ritrovato nei miei archivi questa foto, forse ho cominciato a capire che in realtà dentro di me c'era una certa naturalezza nell'affrontare le altitudini e la scalata. Siamo a Matera, la città dei sassi, quindi non potevo non parlarvi della prima scalata che ho fatto nella mia vita, cioè un masso in Dolomiti. E quando sono arrivato in vetta a questo masso ho cominciato a rendermi conto che questa attività mi piaceva. Cioè il fatto di alzare la mano verso la vetta, anche se quello era un masso piccolissimo, mi cominciò a dare quella sensazione di voler salire verso le vette del mondo. Solo che all'epoca non avevo la più pallida idea di che cosa fosse la paura o vincere sulle montagne o anche fallire. proprio perché in quel momento, quando sei giovane, a queste cose non ci pensi, non si accumulano nel tuo vivere e quindi è più facile affrontare le vite, la vita, e soprattutto le sfide. Poi a un certo punto, mentre cresci, c'è sempre un genitore, i genitori o qualche amico che ti prende per mano e ti accompagna attraverso le esperienze. Queste esperienze che nel mio caso furono accompagnate dalla mano di mio padre che mi aiutò a superare le prime paure attraverso la sua conoscenza e la sua abilità e a portarmi in vetta ai Monti Lepini di 1536 metri e pensate in pieno inverno. Immaginate che i Monti Lepini sono delle montagne che si affacciano sulla pianura pontina e dove di fronte tu puoi vedere il Tirreno con le isole pontine, da Ponza a Ventotene. Questo per dirvi che la distanza di dove vivo, perché questo è il luogo dove vivo, con le grandi montagne, è veramente una grande distanza. Era difficile per me avere maestri che potessero aiutarmi ad avere quella conoscenza che mi potesse permettere di scalare sempre meglio ed affrontare le grandi sfide. Quando a un certo punto mi sono accorto però che, caspita, crescevo e la montagna mi piaceva sempre di più, allora mi sono detto, caspita, ma forse posso ambire anche a scalare pareti sempre più verticali di roccia e di ghiaccio. Però a quel punto la manina di papà che mi accompagnava per non farmi inciampare nella vita, a quel punto mi aveva mollato e per cui con un po' di difficoltà sono riuscito in qualche modo ad affrontare queste pareti, fare dei corsi che mi permettessero di capire come fare e in automatico, in maniera quasi naturale, mi era approcciato all'arrampicata su roccia e avevo cominciato a scalare le prime pareti. Fu un attimo per passare da queste pareti di roccia a mettere insieme un po' di coraggio e in maniera anche un po' incosciente o inconsapevole a 18 anni riesco ad arrivare sulla vetta italiana, sul Monte Bianco, a 4810 metri. Allora provate a immaginare un ragazzino che vive sulla pianura pontina in un paese dove le montagne al massimo arrivano a 1500 metri che a un certo punto si ritrova a scalare il suo primo albero, il suo primo sasso, la sua prima parete, la sua prima vetta di 4000 metri, il Monte Bianco, e a un certo punto si dice caspita, ma se è così facile, perché non andare su una montagna di 8000 metri? E qui subentrano i problemi, perché un ragazzo che viene dalla pianura pontina, da un paese che si chiama Sezzi, in provincia di Latina, cosa ne può sapere di come si respira a 7000 metri, a 8000 metri? Cosa fa l'assenza di ossigeno a quella quota all'organismo umano e alla tua motivazione? Riesci a trovare il coraggio per metterti in movimento quando coraggio viene definito come forza d'animo necessaria per affrontare un'impresa difficile o pericolosa? E infatti, proprio in quel periodo, successe qualcosa che io non avevo calcolato. Sia sul Gasherbroom 2 di 8045 metri, ma anche sul Cioio di 8200 metri, Daniele Nardi fallisce. Sul Gasherbroom mi fermo a 7000 metri, sul Cioio arrivo a 8000 e 50 metri, a un centinaio di metri dalla vetta, comincio a congelare e sono costretto a ridiscendere. Allora, sapete, nella prima spedizione al Gasherbroom dico, caspita, riesco ad andare in quota, comincio a capire come funziona coordinarsi con una squadra, con i tuoi alpinisti, con i portatori, con la gente che è lì. Quindi inizi a capire un po' come funzionano queste spedizioni. Poi a un certo punto arrivi a 7000, l'ossigeno svanisce, entri nella zona della morte dove potrebbero svilupparsi, proprio per la carenza di ossigeno, edemi a livello cerebrale o polmonare che potrebbero portare alla morte. Quindi ho cominciato, attraverso questa esperienza, a capire cosa significava andare a 8000 metri, o almeno a 7000. Successivamente al cioio, ridiscendo, perché avevo fatto degli errori semplici, avevo lasciato i miei piedi dentro lo scarpone di notte, quindi l'umidità aveva fatto sì che poi a 20 gradi sotto zero i miei piedi si congelassero. E anche altri errori che, tecnicamente, diciamo, è quasi inutile spiegarlo perché sarebbe complicato, però è per dire che anche al cioio mi ero portato a casa un'esperienza. Ma era successa una cosa. Cominciava ad avere paura di fallire nuovamente. Non era più come quando avevo scalato la mia prima montagna o la mia prima parete di roccia. A un certo punto cominciava ad avere paura, non tanto di intraprendere una nuova sfida sulle montagne, ma soprattutto di fallire. E che cosa accadde a quel punto? che cominciai a rendermi conto che nel processo di vittoria rispetto a quella paura c'era un processo molto interessante, cioè quello di riuscire in qualche modo a capitalizzare la mia esperienza, a tirar fuori delle conoscenze che potevano in qualche modo aiutarmi a ritrovare quella forza vitale, detta anche come coraggio, come abbiamo definito prima, per poter partire per nuove imprese. In fondo dal Gasherbrum avevo capito come affrontare l'alta quota, al Cioio avevo capito come gestire un team e soprattutto come non congelare o comunque come combattere i congelamenti. Fatto sta che queste due cose insieme in qualche modo mi aiutano a trovare il coraggio per andare all'Everest e il 19 maggio del 2004 riesco ad arrivare in vetta agli 8850 metri dell'Everest. In fondo cominciava a uscire fuori una consapevolezza dentro di me che fra paura, esperienze capitalizzate e ripartire di nuovo, quindi trovare il coraggio per fare nuove sfide, c'era un collegamento veramente molto sottile. Infatti ogni volta che io vincevo, avevo una vittoria su una montagna, in fondo che cosa facevo? Andavo a cercare di capire ciò che io avevo fatto di buono per raggiungere l'obiettivo e lo capitalizzavo, quindi quell'esperienza era una conoscenza che avrei potuto riapplicare. Allo stesso modo però quando fallivo sbagliavo qualcosa, che cosa accadeva? Che di nuovo tornavo indietro a guardare ciò che era accaduto, ciò che avevo sbagliato, per come esperienza proprio farla mia al fine di poter trovare nuove soluzioni e riapplicarle, ma con una grande differenza. Se è vero che quando vinci capisci una strategia che può funzionare, quando perdi il meccanismo di comprendere ciò che è accaduto è molto più sottile e delicato, oltre che difficoltoso. Perché? Perché è vero che puoi rianalizzare ciò che hai sbagliato per usarlo per il futuro, ma se tu non fai in modo che questa esperienza si trasformi in conoscenza e quindi la puoi riapplicare, potresti bloccarti. Ed è quello che per poco non capitava all'Everest. Vi racconto un altro aneddoto. Mi trovo a 7200 metri su una montagna dal nome Macaloo. Ormai erano giorni che eravamo lì insieme ai miei due compagni di cordata. Arriviamo in questo posto e purtroppo succede che l'alta quota mi produce dei sintomi un po' strani. Inizio ad essere disorientato, faccio fatica a camminare, a respirare e non sono più molto lucido. Era il momento in cui avremmo dovuto tentare di scalare la vetta. Ma non voglio rovinare la spedizione ai miei compagni di cordata. Allora li lascio andare. E da questi 7200 metri che si è già nella zona della morte dove l'organismo umano, proprio per l'assenza di ossigeno a quelle quote, non riesce a sopravvivere facilmente. Quindi gli dico ragazzi voi andate e io scenderò verso valle perché c'è qualcosa che non va, senza specificare. feci un grave errore anche lì perché non era supportato dall'esperienza e non avevo mai avuto quel problema. Ed era difficile capire come si fa senza ausilio supplementare di bombole di ossigeno a vivere così tanto a quelle quote. E può capitare qualche volta. Senza lucidità metto i ramponi ai piedi che sono quegli attrezzi che si mettono sotto gli scarponi per scalare sul ghiaccio. Immaginate, si scivola, loro hanno delle punte che si incastrano nel ghiaccio. Loro vanno verso la vetta e arriveranno in vetta. Io comincio la discesa e vado verso valle. Per essere più veloce non porto con me la piccozza, questo attrezzo che si attacca al ghiaccio che si usa con le mani. Lascio lo zaino, mi avvinchio alla corda e comincio a scendere velocemente verso valle. A un certo punto il rampone da sotto i piedi si stacca. Scivolo sul ghiaccio, questa parete di ghiaccio che mi porta verso la zona di salvezza. Volo per 20 metri, riesco a rimanere agganciato alla corda e a quel punto mi trovo fermo su questa parete consapevole che se fossi rimasto lì sarei morto. Ero disperato, anche preso un po' dal panico a dire la verità perché non sapevo più quello che fare. Ci fu un momento che ancora una volta quella specie di comprensione, di illuminazione che avevo avuto a quel punto mi viene in aiuto. Cioè riesco a capire che in quel momento se continuassi a farmi prendere dal panico o magari a non voler reagire oppure a rimanere lì disperato, probabilmente sarei morto. L'unica speranza che avevo dopo aver compreso questo era rischiare il tutto per tutto e attraversare quel tratto di ghiaccio che mi separava da una zona più facile per poter scendere, dove potevo scendere anche senza un rampone. riesco a farlo discendo i 1700 metri e arrivo finalmente al campo base. Lì sono in salvo. Allora, io lo so che questo è un esempio veramente estremo. però vi faccio una domanda. È possibile che nella vita di tutti i giorni, quando affrontiamo le nostre sfide, sfide che potrebbero sembrare di tutti i giorni, noi viviamo delle piccole sfide estreme, dove in realtà magari non mettiamo proprio a repentaglio la nostra vita come nell'alpinismo che è uno sport estremo. Ma però, non si dice, ma dico in quel momento è come se noi, se falliamo, perdiamo un po' di autostima. Perdiamo un pochettino di noi stessi quando sbagliamo nella vita. Ed è questo che mi capita a volte quando mi capita di sbagliare proprio nella vita, ma può essere un lavoro, può essere nell'educazione dei figli, può essere in qualsiasi cosa. Mi sembra di perdere qualcosa e quindi questo può essere, per certi versi, come praticamente nell'ambito alpinistico estremo. Voi? Hanno qui? Anche qui sta in il snu. Voi? Il grande santo è lì,ư? Il grande santo è lì, lo bisogno di andare in lì. L'altro pianto è lì, lo rungo. No, no. D'accordo. Danga Parbat in pieno inverno, immaginate che esistono 14 montagne di oltre 8000 metri, tutte scalate in piena estate. Per tre anni consecutivi cerco di fare un record che non è mai stato fatto. Di queste 14 montagne di 8000 metri, ben due mai scalate in pieno inverno. Una di queste due è il Nanga Parbat. Ma perché non è mai stata scalata in inverno? Perché a 4000 metri di parete e in una zona geografica dove i venti possono soffiare anche a 200 chilometri orari, ci sono tra i 50 e i 60 gradi sotto zero e le pareti sono veramente ripide. Il primo anno riesco ad arrivare a 6400 metri, fallisco. Il secondo anno vado in solitaria perché non riesco a trovare i compagni di cordata per affrontare una sfida così impegnativa. Fallisco di nuovo, arrivo al terzo anno, cioè quello di due mesi fa e un'altra volta riesco a salire con due compagni di cordata, arrivo a 7830 metri. Considerate che questa parete di 4000 metri abbiamo scalato i primi 3600, ne mancavano solo 300, ma quando siamo arrivati lassù abbiamo deciso di scendere e siamo arrivati verso il campo base. Quando arrivo a quell'altitudine mi chiedo, caspita sto fallendo un'altra volta, un altro fallimento tre volte consecutive, ce la farò a riprendermi da questo fallimento? E lì compare la vetta come se fosse la sirena che ti ammalia e che ti vuole verso la vetta. Ma riesco a vincere perché avevo l'esperienza di quell'anno in cui l'edema cerebrale creava dei problemi e questi sintomi che vi avevo spiegato prima li riconosco in Ali. Ali non stava più bene e in quel momento decidiamo di scendere. Ancora una volta l'esperienza trasformata in conoscenza mi aveva permesso di vincere non sulla montagna perché non eravamo arrivati in vetta al Nanga Parbat, ma è certo che l'esperienza trasformata in conoscenza mi ha dato la forza di forse non vincere sulla montagna ma in qualche modo fare in modo che la montagna non si fosse portata via le nostre vite. Grazie.